Cosa fai? Studi? Diciamo che studi medicina. Perché diciamo? È quello che ha voluto mia madre. Perché tu cosa vorresti fare? Mi piace disegnare, dipingere. Perché non lo fai? Non ci devi tornare più. È la prima e l'ultima volta. Quelli come lui mi mandavano al conflitto e facciavano bene. Perché tutti questi eccessi? Io non ti ho mai visto così. Io non sono come loro. Ma sono anche come loro. Chiunque sottopore una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di assoggettamento è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Questo sarebbe il reato di plagia. Ma questo prebenti lo conosci di persona? Ma questo processo è davvero lo specchio del nostro paese. Nell'aspetto più retrivo, più meschino, più criminale. È per quello che devi combattere. Ho avuto un solo pensiero. Curarlo. L'ho portato da tanti specialisti perché gli togliessero quel demonio dalla testa. Il processo è assurdo che non c'è nessun colpevole perché non c'è nessuna colpa. Quanto bene tu mi hai fatto Arezzando mia mano Quel mattino Non voglio essere un martire, né mostro né martire. No voglio essere un martire. Forse è un martire. Per il mezzo è un martire. No voglio essere un martire,